ha capito il lecce, ha capito il lecce, il lecce mamma, al varadona, prima di tutto vi avverto, la feed non dovrebbe partire di questo video, quindi speriamo bene, speriamo bene che lo trovate nel mio home e vada questo video, ma il lecce ragazzi, il lecce, il lecce l'abbiamo seguito in live pazzesca, pazzesca prova del lecce, che è vero che dà il possesso palla al Napoli, ma nei primi 20 minuti il possesso palla è sterile, poi arriva rigore, perché Bandà viene atterrato, se non ricordo male da Estigard, ma ora non ricordo Colombo batte, segna, ma deve ribattere perché forse l'arbitro non aveva fischiato, qualcuno era entrato in aria, la ribatte, cambia angolo, pecca di inespedienza e mi retto, io lo paro due minuti dopo il rigore, ventisettesimo, grande azione del Napoli, sempre con questo possesso palla insistente, che poi trova Politano, Politano, dentro, la mette dentro all'area, dove c'è il Mas completamente da solo, che fa 1-0, ma tre minuti dopo, ragazzi, Colombo si inventa un gol. Da fermo, da 30 metri più o meno, un bolide che si risacca sotto al 7, 1-1, e devo precisare la prova di Baschirotto, Baschirotto annullato quasi completamente il signor Ozyman e Jean-André, ragazzi, annullato Gwarazkeglia, appena è entrato, quando è entrato, è rimasto, sia segnato, non ha dato l'impressione di essere troppo nella partita. Matteo Solivera, sì, ha fatto qualcosa, il più pericoloso secondo me è stato lo stesso di Lorenzo nel secondo tempo, che ha avuto un'occasione sul suo destro, ma Falcone, Falcone, ragazzi, Falcone, Falcone, e voi, e voi intervisti, mi incazzate perché Falcone fa i miracoli solo contro lì, l'ha fatti contro l'Empoli, anche l'ha fatti contro il Sassuolo, e l'ha fatti anche stasera contro il Napoli. Quindi, Vladimir Falcone è un gran portiere, l'ho ripetuto anche in live, perché, ragazzi, va su tutti i palloni, va su tutti i palloni, in uscita su Ozyman, pazzesco, in uscita su Ozyman, pazzesco, fuori dall'aria, senza mani, è un po' fortunato perché la pallina gli impalza addosso, sulla coscia, e quindi mette fuori tempo Ozyman, però, tanta roba, c'è Andrè, c'è Andrè, vabbè, sì, la prima di Pezzella, non mi è dispiaciuto la prima di Pezzella lì, sulla fascia sinistra, e Bandà. Quando c'è Bandà in campo, ragazzi, il Lecce è qualcosa di impressionante. Nel primo tempo ha fatto un battere di Lorenzo e Pulitano, dico questo, e appena esce Bandà per problemi fisici, entra Ryskowski, e per forza di cose il Lecce si abbassa l'indietro, e cioè si abbassa difendere, ma difende con ordine, perché la squadra di Baroli è di per sé già equilibrata all'indietro, perché, se vedete, il possesso della Stegria è dovuto dalla densità in mezzo al campo di El Gasson. Nel primo tempo, perché El Gasson era titolare, Juhlmann, unico remediano del Lecce, perché era un 4-1, 4-1 quello del Lecce. Askelsen, poi Tuya e Paschirotto, quei cinque facevano da soli tanta densità nel mezzo, ed ecco che era Raspadori, nel primo tempo, non ha praticamente avuto zero occasioni, zero occasioni doveva scendere tra un double ambissà e provare a mandare gli esterni al cross. Più di questo Raspadori non poteva fare. Spalletti, secondo me, l'ha messo troppo tardi, la doppia punta. Simeone è entrato, sì, ha fatto quel cross dove Simeone è arrivato e l'ha buttata alta. Poco, cioè, io devo vedere i video dei napoletani che dicono di questo Napoli. Per me questo Napoli, oggi, si è giocato. Ma se non segni, meriti il pareggio. Questo è, questo è, ha trovato davanti a sé un grande Lecce, un grande Lecce che tutti snobbano, compreso me, perché comunque la Cremonese ha un'identità di gioco ben definita. Il Lecce è un po' altalenante, non sa proprio niente. È però contro il Napoli al Maradona, fare un 1-1, tanto di cappello. Niente, domani il live reaction di questa partita, perché, chissà, magari porta bene al canale, e, come i vecchi tempi, l'azione di me, se ve lo ricorderete, 4-4, pazzesco. Like, commento, iscrivetevi al canale, speriamo che questo video vada nella norma. E, niente, a domani con la live reaction di questa partita, e poi, live nella sera di Bologna-Sanernitana. Pazzesco, pazzesco. E, ovviamente, il post-partita di quella partita. Bella!